Ci hanno abituato a pensare all'immigrazione sempre e solo come un peso, come un problema, anzi il problema. Ma tutti questi flussi sono enormi energie, sono persone che vogliono cambiare la loro vita e per farlo vogliono rendersi attive, costruire. Sottovalutiamo sempre la voglia di riscatto e la sete di diritti che hanno queste persone. Rivoluzioniamoci! Rivoluzioniamo! Rivoluzioniamo!